Nella vita puntiamo sempre a ottenere vantaggi multipli. Lo stesso vale quando pensiamo a un trattore. Potenza massima e peso minimo. Ecco voi il 6R185. I clienti ci hanno richiesto un trattore di potenza elevata a 6 cilindri, versatile e compatto, soprattutto per applicazioni di trasporto, ma volevano anche un trattore ad alte prestazioni idrauliche per applicazioni come presse combi, cisterne spandaliquami e attrezzature per l'assemine. La nostra soluzione è stata portare modifiche mirate nei motori e nelle trasmissioni, basate sulla comprensione profonda dei dati di utilizzo. Abbiamo inoltre raggiunto la gestione intelligente della potenza o IPM a sistema idraulico, offrendo 40 cavalli in più, oltre alle operazioni per il trasporto e con PTO. Sul campo garantisce maggiore potenza per pompe e ventole e applicazioni idrauliche che richiedono molta potenza. In altre parole, in un trattore con un passo da 2,76 metri, con la gestione intelligente della potenza, ottenete una potenza totale di 234 cavalli con un peso di sole 7,9 tonnellate. Con un 6R185 ottenete senza dubbio vantaggi multipli. L'intelligenza per risultati migliori. L'intelligenza per risultati migliori. L'intelligenza per risultati migliori. Grazie.